per ragazzi ciao amici di fisherlandia e benvenuti a un nuovo video oggi ragazzi faccio una sorta di video doppio permettetemelo nel senso che prendo spunto da uno degli ultimi video usciti sul nostro canale youtube della serie partiamo da zero abbiamo parlato dello slow pitch ve lo linko anche qua sopra molto bello interessante secondo me perché lì scopriamo quante poche cose servono per questa tecnica ma che queste poche cose vanno scelte attentamente perché è una tecnica che prevede anche la possibilità di catturare un pesce veramente importante quindi bisogna essere sempre pronti alla fine però di quel video vi ho fatto vedere anche quanto la tendenza degli ultimi anni è quella di utilizzare per la stessa tecnica con le stesse attrezzature delle gomme quindi non più le plate quindi non più gli artificiali solo gli artificiali di piombo ma anche ogni tanto giocare con qualche gomma di gomma il mercato ne è pieno ne offrono veramente di un sacco di modelli oggi approfitto anche di questo video per presentarvi perché non ve l'avevo ancora fatto vedere da vicino il crazy squid della jatsui un artificiale che simula un calamaro che è standard di lunghezza 23 centimetri è disponibile in 11 colori diversi e le stesse colorazioni sono disponibili altresì in tre grammature diverse 120 150 e 200 grammi dedicherò quindi anche un attimo di questo video sul montaggio degli assist su queste gomme e vi farò anche vedere vi dirò anche la mia per quanto riguarda il montaggio degli assist su altre gomme secondo mio punto di vista su un artificiale come il crazy squid il montaggio dell'assist è fondamentale mentre invece su altre gomme come ad esempio black mino secondo me potrebbe un po farne perdere qualche caratteristica quindi la facciamo tutta in una tirata come ormai piace a noi assolutamente vi voglio fare vedere un secondo quelle che sono le colorazioni disponibili di questi crazy squid quindi sono vi ricordo 11 colorazioni ce ne abbiamo ne abbiamo tre lumino quindi si chiamano lumino e si chiamano lumino perché hanno la testa fluorescente vi ricordo che questi artificiali si possono utilizzare anche in profondità abbastanza importanti laddove anche di giorno quindi le ore diurne c'è una sorta di scura di oscurità nel fondale quindi potrebbe anche essere che la colorazione possa fare la differenza sicuramente le colorazioni che vi farò vedere adesso sono le più standard quindi cambiamo un secondo l'immagine questo è il packaging intanto del crazy squid come vedete crazy squid qua io vi ho portato a fare vedere i 120 grammi ma la dimensione del calamaro della gomma è tutto uguale abbiamo i tentacolini gli occhi l'amo che viene già fornito con un amo singolo che spunta appunto diciamo al centro del cappello abbiamo le due elette molto forti e resistenti anche in questo caso e abbiamo la testina da questa parte nella parte posteriore qualche scritta che ci consiglia come utilizzare questa artificiale e quindi vediamo intanto il bianco perla vedendo qualche colore vediamo poi l'arancione andiamo abbastanza veloci perché poi questi li potete vedere chiaramente sul nostro sito internet perché vi lascio qua sotto il link in descrizione del di tutta la gamma colori questo che è il colore io lo chiamo coca cola perché è un colore è un nome storico di questa colorazione nelle gomme vediamo anche questo rosa bianco molto bello molto bello qua ci abbiamo anche catturato qualche pece sul fondo abbiamo il classico rosso che è questo qua abbiamo un giallo glitterato che è questo ok e poi abbiamo i tre lumino che sono praticamente con queste fantasie di colori le gomme ma abbiamo ve ne faccio vedere una per tutte che è questa parte fluorescente quindi anche qua abbiamo queste tre colorazioni molto belle e accattivanti ora vi faccio vedere un secondo come è fatto vi ho portato uno dei miei che anche deturpato anche di qualche tentacolino ma va bene così quindi vediamo che in questo caso il mio è già montato con gli assist quindi lo montiamo con gli assist posteriori come vi sto facendo vedere ora ne andiamo a montare addirittura uno insieme e quindi questo è il 150 grammi in questo caso e questo è il crazy squid montato questo è l'amo che arriva già ve lo ricordo di serie potete anche non montare gli assist ma secondo il mio punto di vista in questo caso su questo tipo di gomma per questo tipo di movimento è importante comunque averli quindi a questo punto potremo tranquillamente parlare un secondo di quello che è il movimento di questi artificiali un artificiale che va mosso e può essere presentato al nostro pesce in due modi diversi possiamo farlo saltellare sul fondo cercando una marcatura importante sull'ecoscandaglio cercando un punto dove ci sono delle mangianze dove si può presupporre che ci sia un pesce predatore ma si può chiaramente anche far lavorare in verticale una volta però raggiunto il fondo quindi raggiungiamo il fondo e lo facciamo lavorare in verticale le canne e i mulinelli per queste tecniche sono ormai è una cosa chiara ed evidente che sono mulinelli rotanti con canna chiaramente per mulinelli rotanti viene anche utilizzata chiaramente ancora la canna con mulinello fisso con tutti i pro e contro del caso noi preferiamo chiaramente come movimento l'utilizzo del mulinello rotante una treccia che non dia elasticità se vogliamo assolutamente un pre terminale noi lo mettiamo sempre almeno di un metro e mezzo due metri alle volte anche qualcosa in più in fondo al nostro terminale montiamo un solide ring quindi un anellino solido e andiamo a collegarci con la parte superiore della testa da questa parte dell'anellino con un nostro split e quindi utilizziamo uno split come se fosse un moschettonio andate a vedere anche quel video che vi dicevo prima proprio perché vi spiegavo il perché si utilizza un anellino apparentemente più complesso nell'aprirlo e nello chiuderlo ma assolutamente più efficace perché un anellino molto piccolo ha una tenuta veramente più importante rispetto a un moschettone anche se qualcuno di voi mi segnala che ci sono lo so chiaramente sul mercato dei moschettoni che hanno delle tenute importanti ma diciamo che un anellino uno split ring mi dà assolutamente più sicurezza quindi a questo punto ragazzi lasciamo qua il mio vi faccio vedere un secondo un artificiale lo apriamo insieme lo facciamo proprio come se fossimo al banco del negozio andiamo ad aprire il nostro Crazy Squid vi ho preso adesso per esempio questo colore eccolo qua questo è il nostro Crazy Squid e vi faccio anche vedere quelli che sono gli assist gli assist sono venduti a parte in questo caso sono assist sempre chiaramente della Jatsui già dimensionati per quello che è la lunghezza del nostro Crazy Squid e quindi possono essere già montati senza tante difficoltà come si deve montare il nostro amo? intanto ve lo faccio vedere questo è nella parte sottostante abbiamo il nostro amo che è quello che esce dalla parte superiore che è attaccato a un gancio chiuso completamente chiuso che consiglio di non aprire in questo caso perché non serve perché il nostro Crazy Squid è dotato nella parte sottostante di questo gancio da questa parte abbiamo la parte dove andiamo a collegare la canna da questa parte abbiamo il nostro gancetto per poterci permettere di montare gli assist ora nel montaggio che l'azienda ci propone ci sono due tipi di montaggio un montaggio che prevede il fatto che i nostri assist escano dalla parte sottostante che è quello poi che vi ho fatto vedere qua quindi questo oppure addirittura un montaggio con due assist molto più corti nella parte sottostante quindi rimangono liberi quindi come un artificiale come una blatta vero e proprio come una blatta beh questa è una cosa che a me potrebbe anche funzionare ma vi dico la verità io non la utilizzo io utilizzo soltanto questo tipo di montatura sugli assist per montare gli assist è molto semplice abbiamo nella parte sotto del nostro calamaro abbiamo già un foro spero che si possa vedere ecco così penso che si possa vedere molto molto bene quindi non facciamo altro che prendere un pezzo di nylon molto spesso lo andiamo a inserire lo andiamo a inserire nel foro che facciamo quindi passare come vedete dentro molto semplice un foro molto largo andiamo a prendere il nostro split il nostro solid qua sugli assist andiamo a fare un nodo qualsiasi basta che sia un nodo che tenga un minimo quindi lo infiliamo qua dentro senza tanti fronzoli andiamo a stringere il nostro nodo in questo modo così poi prendiamo il nostro filo e tirando verso di noi facciamo entrare il nostro solid sotto il nostro calamaro quindi come vedete esce il nostro solid a questo punto il gioco è fatto non faccio altro che andare a prendere un paio di forbici andiamo a tagliare completamente il nostro filo che ci ha fatto soltanto da guida e qua montiamo uno split ring quindi andiamo a fare una cosa un pochino più ravvicinata prendiamo dei nostri split ring io sto usando dei split più o meno sempre da 80, 90, 100 libre quindi una misura del 5 va più che bene utilizzando una pinza o una forbice come nel mio caso come vedete con il dentino andiamo ad aprire il nostro anellino in questo modo così prendiamo il nostro solid lo inseriamo all'interno del nostro split in questo modo andiamo a ruotare scusate mi è scappato ma questo è bello di non tagliare assolutamente i video quindi andiamo a fare questo lavoro qua perché questa è una cosa che può succedere assolutamente sempre quindi andiamo a mettere il nostro split dentro il nostro solid come vedete messo in questo caso e lo andiamo di nuovo ad aprire in questo modo così bene e lo andiamo a inserire tranquillamente nel nostro anello sotto come vedete qua ok lo andiamo a inserire così lo andiamo a ruotare fino a farlo entrare completamente tutto per bene e il gioco è fatto voilà tutto questo ha permesso al nostro crazy squid di essere montato perfettamente con i nostri assist in fondo ecco qua quindi a me piace molto anche questa misura che mi fa rimanere come vedete un amo molto corto rispetto a quello che è in poche parole riusciamo ad avere tre punti di attacco uno due e tre chiaramente il nostro split avete visto che già di partenza è fissato con una bocca di lupo al nostro solide quindi in maniera asimmetrica quindi uno è più corto e uno è più lungo proprio perché così copriamo tutta la lunghezza della nostra gomma in questo modo quindi abbiamo il nostro crazy squid che è perfettamente montato se eventualmente non l'ho fatto ma solitamente lo faccio vogliamo evitare che questa parte sia fuori non facciamo altro che prima di inserire questo split qua facciamo un giro morto intorno al nostro amo e poi andiamo in questo caso rimane leggermente in linea ma diciamo che un montaggio così semplice e assolutamente veloce ritengo essere la cosa giusta quindi il nostro calamarozzo è assolutamente pronto per pescare gli ami chiaramente dedicati della jatsui sono BKK quindi BKK qualità assolutamente indiscussa di ami anche in questo caso servono poche cose servono però degli anellini che tengano bene servono degli ami che pungano altrettanto bene perché è una tecnica selettiva è una tecnica che se dovessimo andare sul fondo e prendere e incanare un bel pesce o un pesce comunque solitamente appunto è un pesce vignitoso quindi è giusto cercare di non perderlo un piccolo cenno ancora e sull'utilizzo di altre gomme e qua parte un po' capisco che c'entra poco con la recensione del Crazy Squid ma voglio portarvi a esempio il mitico vecchio sempre intramontabile Black Mino allora in questo caso il Black Mino montato con la sua testa molto pesante perché abbiamo test come questa 120 grammi per esempio prevede il fatto che l'amo esca in questa parte quindi in questo punto molte persone e ci sono anche molti video ben fatti assolutamente diciamo sul tubo consigliano di montare un assist in più quindi come nel Crazy Squid montare un assist in più in questa parte quindi andare ancora un pochino più nella parte posteriore di questo artificiale bene questa cosa a me non è che trova tanto d'accordo ma vi spiego il perché e anche la teoria della mia cosa perché vi faccio vedere ecco mettiamo il nostro Black Mino in questo modo così l'amo in questo caso uscirebbe in questo punto benissimo se io monto un assist e posso farlo assolutamente un punto di presa in più va bene lo dovrei mettere in questo punto bene il trucco di questo artificiale è quello di simulare un calamaro e nella tecnica verticale ve lo faccio vedere così far fare al calamaro questo lavoro quindi salendo in modo sinuoso far fare vedete come è morbida questa gomma far fare questo movimento qua bene il Black Mino avendo la coda come vedete piatta vedete questo padellone qua a contatto con l'acqua il senso di questo Black Mino è quello di muovere la gomma in questo modo più è libero da da fattori esterni più questa gomma si muove quindi andare a mettere un assist verso la coda più di quello che è la misura appunto prevista da Black Mino andrebbe a denaturalizzare si può dire a togliere naturalezza e a togliere movimento alla nostra gomma quindi in questo caso è chiaro ed evidente che un punto di presa in meno potrebbe far sì che un pesce attacchi la coda ci strappi la coda e non rimanga sul nostro amo è vero ma piuttosto che rischiare di avere una gomma che perde gran parte della sua naturalezza questa è una gomma che è nata per essere naturale è nata per essere in movimento questa coda e quindi andare a denaturalizzarla non credo che sia una giusta scelta poi chiaramente bisogna provare bisogna fare delle proprie prove dei propri test e dipende anche molto moltissimo da dove si va a pescare vi ricordo come vi dissi in quel video che il discorso e la funzionalità di tutte queste tecniche può essere data da tre situazioni territorialità quindi il pesce può attaccare per territorialità perché vede arrivare qualcosa nel suo ambito che non conosce quindi lo vuole scacciare comunque per territorialità per predazione che è la cosa più classica perché un calamaro è ambito da tutti veramente come lo è un pesce come un black bean o nelle varie colorazioni l'altro caso è lo stimolo che può avere un pesce ad attaccare qualcosa che non attaccherebbe mai ma lo fa per competizione alimentare cioè perché in quel momento intorno ha dei competitors e quindi viene stimolato accelera più volentieri il momento di attacco su un esca questo è una cosa fondamentale ecco perché quando utilizziamo queste esche dove c'è una presenza di una tipologia di pesce piuttosto importante queste esche funzionano senza nessun problema quando invece iniziamo ad avere momenti in cui il pesce non ha tutta questa competizione tra di loro quindi un branco è veramente ridotto o è di pochi esemplari inizia a diventare un pochino più difficile quindi qui c'è poi da aprire anche lì un mondo e ne faremo sicuramente un video perché me l'avete chiesto bene ragazzi allora a questo punto abbiamo concluso qua siamo andati anche fin troppo lunghi vi ho voluto fare vedere le crazy squid chiaramente lo trovate linkato qua sotto il link in descrizione lo trovate disponibile sul nostro sito internet senza problemi trovate gli assist trovate gli split i black minion insomma tutto quello che vi pare quindi a questo punto ragazzi grazie per essere stati con noi spero che questo video vi abbia fatto piacere mettete un like condividete iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per essere avvisati ogni qual volta Fisherlandia caricherà un nuovo video vi do appuntamento alla prossima io e il crazy squid vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi che la pesca sia con voi ciao 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 ciao